It's a hard knock life for us Stavolta non lancio le carte perché l'altra volta ci ho messo 40 minuti a tirarle su e non sono stronzo Bene, allora video di oggi su saggi scientifici Perché faccio questo tipo di video? Mi state chiedendo in... Eh? Perché è tipo una sorta di video diario, no? Nel futuro lo riguarderò e dirò, ah nel 2020 consigliavo questa roba Avevo letto quello, avevo scoperto quel gioco, quel libro, quella serie tv E quindi niente, così Poi se qualcuno interessa pure quello che dico, meglio Allora, oggi parliamo di saggi scientifici perché? Perché sono praticamente l'unica cosa che leggo Non mi piace molto la narrativa, ne ho letta tanta in vita mia ma ora basta Quindi parliamo di saggi scientifici Divisi un po' per categorie, iniziamo con Saggi scientifici, per chi non ha mai letto saggi scientifici Ok? Ok? Primo, Neil deGrasse Tyson Astrofisica per chi va di fretta Raffaello Cortino Editore 14 euro Organizzato per... Allora, sapete tutti chi è Neil deGrasse Tyson? Giusto? Ci siamo? Conosciamo tutti? Anche perché ha fatto Big Ben Theory Dopo parleremo di Big Ben Theory a un certo punto Comunque sia, è un libro di divulgazione di astrofisica Introduzione all'astrofisica Spiega i concetti base La nascita dell'universo, la luce, alcuni studi cosmologici, i buchi neri Ed è fatto, ed è scritto benissimo Cioè io ne avrò letti 10.000 Conoscevo già tutto quello che c'era scritto qui, tutte le storie Ma sono scritte davvero bene Esiste anche una versione per ragazzi ma non so come sia Comunque sia, assolutamente Se non avete mai letto un libro di astrofisica Quello che dovete comprare è questo Oppure Su questo? Eh, io non sono un grande fan in verità Comunque sia Edizione bellissima Piccola Biblioteca Delphi 666 Carlo Rovelli Sette brevi lezioni di fisica La Delphi più venduto in Italia Cioè più venduto in generale E forse il libro di divulgazione scientifica italiano più venduto Perché è tradotto anche in tutte le altre lingue del mondo Anche qua È organizzato in sette lezioni Molto brevi Di fisica Carlo Rovelli Che tutti conoscerete, presumo Ha scritto vari altri libri Ne ho altri ma non sono sinceramente un grande fan A parte che hanno sempre delle copertine molto belle Questo parla principalmente di fisica quantistica Mentre l'altro ovviamente parlava più di astrofisica Quindi ovviamente c'entra la fisica quantistica ma meno Consigliato? Sì Non costa tantissimo È piccolino Dovete leggerlo Poi mi dite Mi fa schifo? Sono d'accordo con voi Però leggetelo Mentre non potete dire che fa schifo O con tre Richard Feynman Sei pezzi facili Sapete tutti chi è Richard Feynman, vero? Premio Nobel per la fisica Grandissimo divulgatore Grandissimo professore di fisica Con un accento incredibile Anche questo è organizzato molto simile a quello di Rovelli Credo si sia ispirato a questo Esiste anche la versione avanzata Che si chiama Sei pezzi meno facili Che non ho però Non ho neanche letto Mi sa Comunque anche questo è diviso Diviso in Sempre edizione ovviamente Delphi Prezzo circa 13 euro Anche qua parla di atomi In movimento E fisica quantistica in generale È un'introduzione Solo che differenzia tra Quello di Rovelli E quello di Feynman Mi piace di più quello di Feynman Perché è scritto meglio È più chiaro È più grosso C'è più tempo per spiegare le cose Se dovete scegliere quale dei due regalare Questo O comprare per voi Se non li avete mai letti Concludiamo Feynman Con un altro libro sempre suo E questa edizione Biblioteca Scientifica 27 Bellissima Non so quanto costa Dovrebbe costare Vediamo 15 euro Questa qua Adesso c'è una decisione diversa Questo invece è un libro di filosofia della scienza Spiega perché si fanno certe cose in scienza E non altre Perché si fanno in quel modo lì E non in un altro Qual è la correlazione tra Non so Bombe atomiche E scienziati Cose del genere Interessante Scritto negli anni 80 Quindi verso La fine della vita Di Richard Feynman Finito Feynman Quindi questi Se dovete iniziare Questi qua vi direi Se dovete darli a qualcuno di Qualcuno di completamente inesperto Vediamo ora invece qualche libro Italiano Vabbè Rovelli prima era italiano Ma Non ho messo in un'altra categoria Per i libri italiani Allora Due di Bressanini Ne ho altri Ma Bugia nel carrello Pane bugie Chiare lettere Entrambi costano circa 13 euro Che si parlano di marketing Del cibo E di truffe Correlate al cibo Quindi Intolleranza alimentari Intolleranza al glutine E le truffe correlate Ovviamente Il kamut I senza glutine Tutte che serve Quale? Glutammato Interessanti Ovviamente Dario Bressanini Conoscete tutti A cui Facciamo gli auguri Assolutamente Se non sapete perché Vedete Guardate il suo canale Primo libro invece Di saggio scientifico Che ho mai comprato Nella mia vita Salute e bugie Di salvo di grazia E il suo successore Che è medicina e bugie Ne ha scritto un altro Che però non ho letto Sempre edizione Chiare lettere Sempre 15 euro Questi parlano di truffe Ma molto simili A quelli di Bressanini Come idea Parlano di truffe Ma dal punto di vista Salute Grazie Ah no Scusa Dal punto di vista Della salute Quindi medicina omiopatica Cure alternative Medicina germanica Muxo bustione Tutte quelle robe qua Molto interessante Soprattutto Se non conoscete l'argomento O se siete del mestiere Perché Sia questo che quello di Bressanini Se siete ad esempio Dei nutrizionisti Dovete leggerli per forza Perché Vi insegnano a controbattere No? Vi danno delle risposte Alle classiche domande Che vi faranno Vi diranno Eh ma Ho visto che in Francia Si fa quella roba lì Si fa quella roba là E voi sapete come rispondere Ultimo italiano Che vi consiglio oggi Luca Perry Astro bufale Perché questo Questo è molto divertente Ok Luca Perry Che Anche lui su youtube Famosissimo Fa un video Ogni 10.000 anni Una cosa interessante In verità Molto carino Praticamente Prende due notizie Una delle quali Vera e una falsa Ma entrambe Presenti davvero Su qualche giornale E sempre a tema Ovviamente Esplorazione spaziale In generale Ad esempio Le matite Sullo space shuttle Cosa del genere Anzi Le matite Sull'Apollo Quindi sul Saturn V Perché Per come Molto interessante Perché sono vere Perché sono false Interessante Dopodiché Passiamo a Passiamo di livello Andiamo su qualcosa Di un po' più complesso Questa Edizione è orribile Se l'universo Brulica di alieni Dove sono tutti quanti Stephen Webb Edizione Questa focus Ma ce ne sono altre Ce l'edizione nuova Che è 75 Queste sono 50 Risposta alla domanda Dove sono tutti quanti Quello che si chiama Paradosso di fermi Ok Paradosso di fermi È se l'universo Appunto è pieno Perché nessuno Ci ha mai contattato Di alieni Perché nessuno Ci ha mai contattato E qua ci sono 50 risposte 75 Quello nuovo Tipo Esistono ma Non hanno Il modo di comunicare Non esistono Esistono ma Se ne stracatafottono di noi Sono esistiti prima Ma sono già morti Se leggete questo Avete un sacco di idee Per scrivere romanzi Di fantascienza Quindi No Questo è davvero Davvero bello E abbastanza sconosciuto da noi Poi Un libro a cui sono molto affezionato Più o meno quanto Di Lawrence Weinstein E John A. Adam Edizione Zanichelli Chiavi di lettura Piccolino Piccolissimo 13 euro Questo è molto interessante Perché ritorno a Fermi In questo caso Con il problema di Fermi Non un paradosso Il problema di Fermi È sostanzialmente Stimare Senza cercare su internet Senza usare la calcolatrice Qualcosa Ad esempio Quanti sono gli accordatori Che ci sono nella città di Chicago Se volete sapere Se volete sapere come fare Per stimarlo in maniera Abbastanza intelligente Leggetevi Questo libricchino Ci potete fare un sacco di giochini È bello Se volete male a qualcuno Invece Qua siamo già davvero alti Come livello Spillover Spillover di David Quennam In un'edizione a Delphi Bellissima Perché se volete male a qualcuno 14 euro Questo Perché è pesantone È davvero pesantone È bello Ma è molto Molto pesante Spiega nel minimo particolare Il perché Il per come Hanno studiato Gli spillover Cosa sono gli spillover Passaggio di una malattia Dovresti saperlo Ormai Passaggio di una malattia Dagli animali agli uomini Quindi parla Della IDS Dell'Ebola Parla Ovviamente Della SARS Quella vecchia E Predice La SARS nuova C'è il covid Bello Ma Dovete essere interessati Cioè vi deve interessare Le malattie O vi deve interessare Devono interessare Le zoonosi Se no È pesantone Certo vi aiuta a capire Come funzionano Sì Però forse ci sono libri più adatti Se invece volete Solo capire Come è nato il covid Ci sono libri più adatti Libri per invece Qualcuno a cui volete Molto bene Non è di scienza In verità È di filosofia Ma comunque sia David Edmonds Uccideresti l'uomo grasso Il dilemma etico Del male minore Raffaello Cortini Editore 19 euro A parte avere Una copertina bellissima Questo parla Di questo Problema qui Quello classico Vediamo se trovo Un'immagine più Esplicativa Il classico Problema Di Filosofia Sul Devi arresti Non devi arresti Il binario Per uccidere Salvare Eccetera eccetera Visto in un milione Di varianti Del perché Del per come Alcune persone Lo affrontano in un modo Alcune lo affrontano in un altro Molto interessante Molto veloce da leggere Poi ha una copertina Che è bellissima Se invece siete più interessati La matematica Quindi abbiamo visto Medicina Fisica Filosofia Anche se vabbè Non è scienza In quel senso stretto Ultimo tema di Fermat Perché è quello che ho letto L'ultimo libro di matematica Che ho letto Questo Bellissimo In un'edizione vecchia Degli anni 90 In questo caso Ma credo ci sia Un'altra edizione più nuova A 30.000 lire Costava Parla di Scritto da Simon Singh Parla di Come È stato dimostrato L'ultimo tema di Fermat E di che cos'è L'ultimo tema di Fermat Ovviamente È bella Questa versione che ho io Perché è di un tizio Che l'aveva comprato Negli anni 90 E era evidentemente Un grande appassionato Ha lasciato dentro Un pezzo di giornale Con un articolo Sull'ultimo tema di Fermat E da qualche parte Dovrei avere anche I suoi appunti Bello era carino Comunque questo consigliato È scritto davvero bene Questo Poi 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 Beh siamo giunti Quasi alla fine Allora Se invece Vi volete davvero male O volete davvero male A qualcuno Un libro incredibile Anche solo da Far finta di aver letto Vi vantate con la gente Godeleski Rebac Di Douglas of Stader Che è quello che dà il nome A Big Ben Theory Come dicevo Un'eterna Ghirlanda brillante E GB 22 euro Non tantissimo È un mattone gigantesco Bellissimo Nel senso che è davvero bello Vedete C'è delle immagini all'interno Perché ovviamente si parla di Esker E non solo Di che cosa parla questo librone gigantesco Ad Elfi 12 Parla di Principalmente Intelligenza artificiale Ok Di come si può sviluppare E non sviluppare La storia del pensiero Eccetera 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 Partendo da Godel Ovviamente Quindi il maestro Della logica moderna Esker Quello dei disegnini Esker ovviamente Quello delle illusioni ottiche Bach Compositore Perché? Per come proprio queste tre persone Non altre Beh non ve lo spoiler È scritto nelle prime pagine del libro Il libro è difficile Cioè è difficile da leggere È pesante Anche perché Entra in alcuni concetti di Principalmente matematica Abbastanza complessi Però se siete uno studente Di ingegneria Barra fisica Barra matematica Dovete leggerlo Per forza Se siete Super Saggisti Scientifici E mega acclamati Avete il dubbio Compratelo perché è incredibile Altrimenti Non fa per voi Ve lo assicuro E invece Ultimo libro che Non ho letto Ma devo iniziare a leggere Che ho appena comprato Il libro segreto della medicina Fa ridere il nome Sembra una roba complottista Guida i fenomeni naturali Più strani del mondo Di Ian Bondeson Pagato a 9,75 euro Al liberaccio Parla di Appunto Cioè misteri Casi particolari Della medicina Tipo Una donna svizzera Si destra dalla bara Durante i preparativi Per il seppellimento Cose del genere Volevo leggerlo E lo leggerò E poi vi faccio sapere Nel caso com'è Tra quanti anni Vi rivedrò questo video Dirò Faceva cagare Era bello Vabbè Intanto non so perché Mi si smarmella Il video dalla webcam Se qualcuno lo sa Me lo dica C'è in verità un libro Che non vi ho consigliato Perché non ce l'ho fisicamente Sempre a Delphi Ovviamente Oliver Sacks L'uomo che scambiò Sua moglie Per un cappello È un libro di medicina In particolare Neurologia E parla di disturbi Neurologici Molto particolari O psichiatrici A volte Molto particolari Bellissimo Perché oltre che essere Un bel libro Di divulgazione scientifica Che spiega alcuni concetti Di delle malattie neurologiche È scritto Cioè Quella è davvero letteratura Forse gli unici due scritti Davvero bene Che vi ho citato Sono questo di Sacks E quelli di Feynman Non perché Gli altri siano Scretti male Ma non sono così Artistici Ok Ci siamo Quindi Niente Volevo fare una sorta Di gruppo di lettura Tipo quello di Legna E mi si sparmella Tipo quello di Legna Zodiaco Non so se avete presente Dove spiega Legge Consiglia libri Poi fanno l'accensione dopo Ma Versione scientifica Quindi Se siete arrivati fin qua Fatemi sapere Quali sono i vostri Saggi scientifici preferiti Se ne avete letto qualcuno Di quelle che vi ho consigliato Se avete Un'idea diversa Noi ci sentiamo la prossima volta Arrivederci Noi ci sentiamo la prossima volta